vi spiego un attimo cosa sto combinando qua io mi chiamo manfredo sono un tosco tedesco da circa 40 anni e da quando sono qui raccolgo sassi per cui io vado in campi arati gretti di fiume spiagge discariche marmisti fabbriche di vetro cantieri boschi vado in sicilia vado in francia vado in puglia e torno con la macchina terra questa è la cosa che faccio ormai da decenni è un hobby andato fuori controllo io porto qua i materiali allora trovati non modifico nulla del materiale trovato lascio tutto così come lo trovo e metto tutto insieme solamente con aiuto di equilibrio gravità grazie a tutti è un bosco di circa 10 ettari 90 per cento è nel bosco e una piccola parte fuori del bosco per cui con gli anni si è creato questo labirinto di sentieri è peccato il bosco di sentieri Grazie a tutti